Uno dei punti qualificanti è stato anche quello di candidare per il Consiglio Comunale, ho usato proprio queste parole, persone speciali, persone speciali. Mi sembra che in questa lista abbiamo raccolto in pieno questa mia indicazione perché sono di fronte a persone speciali e la specialità che vi rappresenta e il fatto che voi venite in gran parte dalla società civile, ma è un termine abusato, voi siete espressioni di quella professionalità che io ogni tanto richiamo. Vedi il problema dell'individuazione degli assessori. Siete persone che venite da un mondo di produttività oppure da un mondo di associazionismo, un mondo di volontariato che conta, che è importante, che è parte integrante, che è parte trainante su cui dobbiamo appoggiare per il rilancio della nostra società e della nostra collettività. E quindi io vi ringrazio perché avete scelto un incarico molto importante. Dobbiamo essere una lista propositiva. Io arrivo da un'esperienza di questi cinque anni amministrando la città che ho sempre, dal primo giorno in cui mi sono insediato, ho sempre lavorato per costruire qualcosa che oggi e che ieri la città di Sassari non aveva. Noi siamo una città che dobbiamo dare fiducia. Quello che manca nella nostra città è la fiducia e la speranza. Noi siamo una città.